Le botteghe artistiche del Centro Storico lanciano il progetto Perugia Città delle Arti. L'iniziativa dell'Associazione Arti City riunisce gli artigiani artistici perugini e umbri e lancia un importante allarme. Nel 2009 eravamo in 12 solo nel Centro Storico di Perugia, oggi siamo la metà. I laboratori chiudono continuamente perché non hanno la possibilità di tramandare il loro sapere e altri fanno fatica a nascere. Tra i principali problemi la mancanza di ricambio generazionale. La nostra regione, sottolinea Maria Antonietta Taticchi, artigiane e presidente dell'Associazione Perugina Arti City, botteghe artigiane del Centro Storico, ha un asso nella manica da poter giocare, l'artigiano artistico di qualità. Se lo giocasse, dice, ne trarrebbe grandi benefici e Perugia, che ospita anche un'importante istituzione, quale l'Accademia di Belle Arti, potrebbe diventare una vera e propria città delle arti che mette in mostra tutte le forme di artigianato umbro. Con l'obiettivo di delineare strategie per il futuro, soci, esperti del settore, organizzazioni di categoria, istituzioni locali e regionali, si sono quindi riuniti per discutere delle criticità che caratterizzano il comparto. Parliamo di un artigianato che nel suo prodotto finale realizza vere e proprie opere d'arte, ha premesso Fioroni, assessore allo sviluppo economico dell'Umbria. Non basta quindi, ha sottolineato, supportare il settore con risorse, cosa che abbiamo già fatto con bandi destinate alla microimpresa. È necessario, dice, promuovere la cultura del prodotto artistico, portare nuovi giovani a vedere nell'artigianato artistico un possibile lavoro gratificante, emozionante e soddisfacente. Questa è la sfida, conclude. In questo contesto ArtiCity si è portata avanti e ha già dato vita a progetti per l'attivazione di work experience in laboratori e botteghe scuole. Lavoriamo, conclude la Taticchi, perché si possa tramandare il saper fare dei maestri artigiani e si possano aprire nuovi laboratori.